Salve amici di TelemediaTube, oggi parliamo del 1969 Vintage Fuzz della Silver Strumenti Musicali. Allora, questo Fuzz è prodotto completamente a mano in Italia con 2Point e diciamo i transistor utilizzati sono quelli al silicio, anche se in effetti suona come uno a Germania. Ovviamente come tutti i Fuzz è un effetto rumoroso ed è, diciamo, si rifà ai Fuzz dei primi anni, della fine degli anni Sessanta, ai vecchi Fuzz Face ed è un clone perfetto praticamente. Andiamo a sentire. Settire suona come è ben definito, anche se è fazzoso, ma fazzoso al punto giusto, ormai scomposto. Settire suona con i Fuzz di Eric Clapton, di Jimmy Hendrix e diciamo tutta quella bella gente lì. con i Fuzz di Eric Clapton. 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 Vedete come a bassi livelli di Gain, o meglio di Fuzz, riusciamo ad ottenere anche un suono molto simile al livello che può essere molto piacevole anche in fasi ritmiche o anche semplicemente degli accompagnamenti anche lenti. con i Fuzz di Eric Clapton. con i Fuzz di Eric Clapton. con i Fuzz di Eric Clapton.